L'iniziativa della consulta provinciale degli studenti della provincia di Pesaro Urbino dal titolo Coltivare la legalità porta oggi ad affrontare un tema di sicuro interesse e di grande respiro sociale in una realtà serena e tranquilla quale quella della provincia di Pesaro Urbino, ma che tuttavia deve porre l'attenzione della società civile tutta e degli studenti in modo particolare, la necessità di contrastare e di tenere sempre alta la soglia di attenzione al contrasto delle mafie. Contrasto delle mafie che attingono il loro potere oggi ancora di più dalla dimensione economica e dai flussi di denaro illecito che riescono a gestire a livello nazionale e a livello globale. Questo se pensiamo che a livello nazionale il denaro frutto di riciclaggio di attività illecite muove qualcosa come in stime da parte della nostra Banca d'Italia, stime di circa il 10% del prodotto interno nazionale lordo quindi stime sicuramente di grande interesse e di grande rilevanza. Da qui la necessità di un approccio di carattere sistemico ampio che investa tutta la società civile non solo gli organi investigativi, le forze di polizia e l'autorità giudiziaria ma anche e soprattutto la società civile a partire dalla scuola e dai giovani che rappresentano il nostro futuro.